La terza edizione dello Shack Trail è stata molto riuscita con la presenza di 330 partecipanti che provenivano da tutto il mondo, che hanno fatto il percorso anche quest'anno di 47 km intorno al parco. Si partiva da Monte Rosso e si tornava a Monte Rosso, e Monte Rosso è il fulcro non solo del parco nazionale delle 5 terre ma anche del parco letterario dedicato a Montale. Cerchiamo attraverso queste iniziative di reperire un turismo attento, un turismo che colga non soltanto la bellezza del territorio, le sue qualità, ma anche la sua storia e il modo con il quale questa storia è stata raccontata, questo paesaggio è stato raccontato. Quindi Montale è un passaggio ineliminabile, fondamentale riguardo ai racconti sulle 5 terre.